o in un'altra. E cosa fa nascere che si deve incarnare in una coppia di genitori o in un'altra? Commento. I codici dell'incarnando e dei due genitori. Se durante la gravidanza i codici della madre e anche del padre hanno un'elevazione vibratoria, i codici dell'entità che al momento dell'incarnazione erano adatti per quei genitori, non lo sono più e i genitori meritano come figlio un'entità più evoluta. Parimenti, i genitori cui codici sono adatti ad accogliere un'entità che darà un importante contributo alla società, devono essere meritevoli di allevare un simile figlio. Il loro merito sarà il modo spiritualizzato di vedere la vita.